Ciao a tutti e benvenuti in questi mini brevi video che vi pubblicherò tutti i giorni mentre aprirò i miei calendari dell'avvento, ne ho due sono come le influencer che ne hanno 35 e i miei non sono beauty ma sono cibo e big! Allora, apriamo prima quello del cibo che non va spacchettato lo mangerò stasera perché è dopo cena che normalmente ho questo craving di cioccolato uh, questo è già mezzo aperto però lo apro comunque adesso è possibile che non lo vedo 21 9, ora ve lo vedrete sicuro e mi direte ma idiota sta lì 4 ah è qua una cosina piccola, penso no, direi che bella grossa uh, un tronchi adoro adoro, adoro, adoro questo che era l'avvento, io l'avevo visto già a ottobre l'ho comprato però a dicembre ok, questo tronchi me lo nascondo già perché sennò qualcuno lo mangia e lo mangerò stasera mentre ora vediamo che cosa c'è qua allora, andiamo intanto di aprire la confezione in qualche modo ok oh no arrivo scusa te ha suonato il corriere per mia madre quindi neanche per me quindi neanche contenuto da pubblicare però nel frattempo vi ho tolto la plastichetta da questo ed è fatto così dentro ah, molto molto basic numero uno è qua vediamo cosa mi esce che poi qua dietro c'è tutti gli spoiler in realtà però a tutti i tempi non piacciono quando ci sono gli spoiler cioè nei cioccolatini chi se ne frega ma nei nei cosi sinceramente ho una penna azzurra direi ok ce l'ho un foglio devo provarla questo un foglio di economia faccio un colicino oh ma che carina oddio più che un cuore sembra è un cuore che ha qualche problema di arteria forse però carina sì ora la metto nel mio astuccio perché qua c'è qualche astuccio mio e nulla forse devo pulirla della camera e nulla oggi ve lo pubblico immediatamente adesso che sono l'una ve lo vado a pubblicare così se vi ricordo ogni giorno vi farò vedere se non riesco perché magari sono troppo impegnata eccetera tipo il 7 gennaio sono impegnatissima 7 dicembre sono impegnatissima quindi non so se riuscirò a farlo ma vi prometto che ci provo almeno farvi rivedere quasi tutti ciao 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 Grazie.